the broadcast is live ok siamo già live siamo già live allora vado a spegnere è partito intanto io controllo dove siamo live perché c'erano ben due live programmate sul canale quindi perfetto sempre meglio continuo a non vederne nessuna delle due attive oddio ok oh my goodness aspetta io sono sul tuo canale in questo momento e questo perché sono una sega a fare queste cose io sul mio telefonino neanche le trovo quindi no dai sarà adesso è che c'è sempre un po' di ritardo da stream yard alla live effettiva anche se io io continuo a non vedere la live alla grande e ho anche il campanellino dal vivo no io la vedo ma 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 no è in attesa in attesa ma tu hai schiacciato go live aiuto su stream yard si aspetta che metto di nuovo lo schermo ok allora io intanto edit beh certo cos'è? era privata cioè era go live ma era privata stavamo facendo una live privata un errore un errore un errore da uno youtube oddio wait a moment then try again ok wait a moment then try again ma perché sul mio telefono sul mio canale c'è scritto iscriviti non sono iscritto al mio canale oddio 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 ok oh ok io la vedo dal vivo adesso siamo live io continuo a non vederla aspetta ma aspetta aspetta sarà la mia connessione adesso adesso la vedrò ma c'è qualcuno in chat che ci dice sì siamo live no però vedo un lucchetto vedo un lucchetto sul youtube stiamo facendo una live privata perché? aspetta aspetta che vado su youtube studio vai tranquillo tanto video a questo punto vabbè ma chi se ne frega cioè io sono un nabolo sapevo che succedeva qualcosa l'avevo messo in conto allora e vabbè al massimo ne facciamo un'altra eh analytics no dove vado video in realtà tu da youtube non dovresti toccare nulla sai non dovrei toccare nulla giusto no no fa tutto lui allora vediamo video beh intanto se c'è qualcuno che sta uno spettatore ma penso che sia no è privata la live però su su è privata su youtube ma davvero perché è privata non lo so tra l'altro dice che siamo live da tre minuti e venticinque ma ma poi dico io aspetta scusami youtube studio io quello che non capisco è non è che magari devo devo andare qua su youtube e sbloccarla no 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 perché almeno io l'ho fatto tutto quanto da streamyard io youtube lo vado a toccare quando uso obs perché devo inserire le chiavi stream eccetera eh no vedi però guarda su youtube mi dice che che siamo live che siamo privati adesso io lo sposto in pubblico a pubblico adesso dovremmo esserci adesso dovremmo esserci sì ah sì aspetta aspetta che forse ci siamo sì ci siamo adesso c'è uno spettatore c'è uno spettatore sono io dal mio telefonino ok meraviglioso allora eh però ci siamo perfetto io dove sono sono qua ok ok qua ci siamo aspetta che io intanto prendo il link ciao max ci vedi grazie grazie mille ciao max intanto io scusate ci stiamo arrangiando con cose tecniche però però sai che c'è sono le altre live sono sono rimaste quindi la live infinita non vorrei che magari c'è altra gente messa di là eh ehm adesso le ho eliminate così ok così se qualcuno era di là qualcuno sta cominciando ad arrivare ok così se qualcuno era dalla parte sbagliata è stato sfrattato bonariamente ok allora dunque però io non vedo la chat nella in stream yard la vedo qua su youtube quindi ok eccoci qua ciao imotep ciao buonasera a tutti ragazzi un attimino perché adesso siamo un attimo in fase di organizzazione ciao ciao audio raccontando buonasera audio raccontando non lo conosco non lo conosci è un tipo mi pare che legga libri su youtube pure lui pure lui ciao massimo massimo mazzone ciao ok ciao bella ah ok finalmente sono riuscito a vedere la chat qua sul ok 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 allora io intanto vado di là un attimino a spegnere la ciao mariam ciao patti ok ragazzi scusate noi abbiamo avuto dei stasera mi si dovrebbe vedere bene insomma si stasera ti si vede in tutto il tuo splendore tutto il mio ciao mariam non so con quanto ritardo leggo la chat io perché sto seguendo dal telefonino però penso sia lo stesso ritardo con la quale la leggo io perché la sto vedendo da youtube e su youtube ci vedo indifferita di almeno 4-5 secondi quindi la stiamo vedendo a ritardo ciao patti ciao imotep ciao a tutti insomma ciao iago benvenuti a tutti e allora come va intanto facciamo due chiacchiere così spensierate cioè spensierate insomma come come è andato il rientro il rientro perché per molti c'è stato il rientro eh sì in questa fase 2 eh sì è stata una settimana in realtà anche la scorsa ma questa forse è stata un po' più provante credo per molte persone perché ci sono stati tanti rientri c'è stata tanta confusione ancora ce ne sarà io temo sì quindi beh qua dove sono io devo dire che tutto sembra tornato alla normalità a parte qualche a parte le code al supermercato fuori dal supermercato però sembra che tutto è qualche mascherina in più ma insomma dove vivo io sembra sembra tornata la 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 normalità la normalità insomma sì qua da me non tantissimo ti dirò perché c'è stato un po' di ci sono state un po' di varianti sul decreto interne quindi indette dal nostro sindaco quindi la situazione è ancora un po' così claudicante soprattutto per gli esercizi però insomma vedremo come come andranno eh vedremo chissà Maxi dice che lui è infatti non ha avvertito molte differenze a parte il traffico forse che sicuramente è aumentato eh eh quello sì ma per me non è cambiato molto insomma non è cambiato molto mi sembra di capire ok allora stasera leggiamo il capitolo 2 mh per chi non avesse recuperato vabbè che tutti quelli che siete qua sono sicuro che già avete sentito il primo sul canale di Valentina la musifabolista e stasera la ospito io così provo anch'io che sono un po' un nubo della situazione qua con con gli streaming live eccetera quindi cercherò anch'io di migliorarmi da questo punto di vista e e niente oggi facciamo il capitolo 2 anche questo abbastanza lunghino devo dire sì ha anche questo chissà vediamo vediamo dove arriviamo casomai mettiamo un punto però speriamo di di leggerne zelcorino ciao ah c'è zelcor pure quest'altro sì anche lui c'è un canale youtube vabbè ma lo conoscete tutti tanto non c'è bisogno di presentarvi storie dell'orrore tutti collaboriamo con lui le nostre voci sono presenti sul suo canale e lui è presente nel nostro è un po' il nostro signore degli anelli eh sì che dice ciao se mi vedete scrive robe assurde perché ho esagerato con l'assenzio e fai bene fai bene caro zelcor perché ci vuole l'assenzio scalda il cuore insomma e l'anima poi prima della storia infinita l'assenzio ragazzi meraviglia comunque dovevo dire qualcosa me lo sono completamente dimenticata ah sì che potevamo mettere il link al primo capitolo mannaggia sai che faccio magari lo metto in no in chat serve a poco effettivamente sì non c'ho pensato cioè io ecco quasi no sai che faccio magari lo metto se riesco ad essere così tanto tecnologica e io dubito di riuscire ad essere così tanto tecnologica se riesco lo metto come commento sia mai che ci riesco come commento non so se te lo fa mettere youtube forse si incavola se metti allora lasciamo stare poi al massimo lo mettiamo nella descrizione lo metto dopo sì lo metto dopo nella descrizione infatti a fine non adesso insomma perché adesso ho chiuso tutto cioè lo metto dopo tanto comunque ovi guardati chi si guarda la live non si può andare a guardare in tempo reale il capitolo precedente quindi esatto quindi adesso vi beccate il capitolo 2 con noi poi andate a recuperarmi il primo però forse possiamo fare un riassuntino così che succede un riassuntino veloce vai tu allora beh allora c'è questo bambino che si chiama Bastiano o Bastian dal film e che scappa e si rifugia in una in una libreria dove trova un signore anche abbastanza un po' sgorbutico e e trova un libro che che gli interessa insomma lo lo prende e lo ruba diciamo lo se ne è in possessa scappa con questo libro e corre non sa dove rifugiarsi perché in teoria dovrebbe essere a scuola ma lui ha fatto ha fatto come si dice ha fatto sega no? ha fatto sì penso che sia abbastanza universale in tutta Italia come termine forse sì e ha fatto sega e quindi non può tornare a casa non può cioè non vuole andare a scuola non ci pensa nemmeno anche perché lì lo trattano tutti male sia i professori ma anche cioè sia i i suoi compagni ma anche i professori indistintamente lo tratta male chiunque e così si rifugia nella nella soffitta della scuola no? sì trova un luogo in questa scuola dove ci insomma è una specie di magazzino dove ci mettono le robe per la palestra insomma e si mette là a leggere il primo capitolo di questo libro che è la storia infinita e e ne resta un po' innamorata cioè si immerge totalmente nella lettura di questo di questo libro e scopre che c'è che c'è un mondo strano in questa in questa storia infinita dove c'è una 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 infanta imperatrice no? un'imperatrice bambina che ha bisogno di aiuto e non dico più niente esatto o no vabbè c'era un pezzettino c'era un pezzettino in più se vogliamo non stiamo aggiungi aggiungi pure perché non stiamo facendo spoiler e noi entriamo in questo mondo attraverso il viaggio che stanno percorrendo dei messaggeri da tantissime parti di fantasia che è il nome di questo mondo e questi messaggeri stanno andando tutti quanti alla torre d'avorio che è il posto meraviglioso dove abita la l'infanta imperatrice per chi è amante del film la principessa bambina mi pare che si dice così no? ah là si chiamava la prima sai che non ci pensavo proprio per me l'imperatrice bambina l'imperatrice bambina l'imperatrice bambina quindi vabbè stessa cosa però a me piace di più infanta imperatrice e nell'andare nell'arrivare in questa torre d'avorio vengono a scoprire che praticamente ci sono messaggeri da tutta fantasia lui lì per lo stesso motivo ossia che un nulla è comparso e sta letteralmente facendo scomparire le varie regioni di fantasia quindi sono tutti quanti lì per lo stesso motivo tutti quanti a chiedere aiuto all'infanta imperatrice ma l'infanta imperatrice si è ammalata e nessuno sa che cosa abbia quindi noi chiudiamo così il primo capitolo della della storia infinita e oggi scopriamo che cosa succede in questo mondo e cosa che decisioni verranno prese che non scopriremo adesso che cos'ha l'infanta imperatrice ma ci incammineremo in un viaggio per scoprirlo intanto ciao ciao Excel è arrivato qualcun altro prima vedevo Gabriella Gabriellotica ciao Gabriellotica ci seguiva anche la scorsa volta ci seguiva nei canali insomma Rosi ciao Rosanna e quanti youtuber preferiti ci sono collegati eh sì ce ne sono tanti perché stasera c'è anche Andrea Excel dell'hoste della locanda della tormenta che lui tra l'altro è il re del fantasy su youtube a mani basse cioè quindi quindi abbiamo abbiamo da correre per c'è anche Rosanna la nostra Ros ciao Ros e niente insomma io direi che possiamo anche cominciare dai sono le 21 e 45 come la volta scorsa se possiamo come la volta scorsa allora io nel frattempo per evitare di distrarmi slitto sulla pagina di StreamYard così non vedo la chat scorrere perché sennò con l'occhio vado lì a guardare e mi distrago dalla lettura è bravo anch'io devo nascondere un po' il telefono qua perché altrimenti mi distrago quindi se ci scrivete e vabbè intanto in caso se c'è vi risponde fra però siccome è una lettura a due voce potremmo essere entrambi concentrati sul testo se fate domande e non vi rispondiamo nell'immediato abbiate pazienza quando poi facciamo la pausa recuperiamo tutti i messaggi faremo da tanto dei piccoli dei piccoli intervalli durante la lettura per rispondervi se avete dei dubbi oppure se se volete chiedere qualcosa oppure insomma faremo comunque dei intervalli vediamo se io riesco a mettermi in una posizione ottimale ecco così dovrebbe andar bene capitolo secondo la chiamata di Atreiu buone o cattive notizie gioie o dolori che riguardavano il grande regno di fantasia tutto veniva di solito discusso in assemblee che si tenevano nella grande sala del trono della torre d'avorio la quale si trovava all'interno del recinto del palazzo solo qualche piano più sotto del padiglione della magnolia in quel momento il vasto salone rotondo era colmo di un gran brusio di voci confuse e diverse i 499 migliori medici dell'impero di fantasia erano colla raccolti e parlavano mormoravano e sussurravano fra loro in gruppi più o meno numerosi ognuno di loro era andato a visitare l'infanta imperatrice alcuni già da qualche tempo e altri solo negli ultimi giorni e ciascuno aveva cercato di dare il meglio del suo sapere per venirle in aiuto ma nessuno era riuscito a capire di che malattia si trattasse e quale ne fosse la causa nessuno sapeva come la si poteva guarire e il cinquecentesimo il più famoso di tutti i famosi medici del reame di cui la leggenda diceva che non vera erba medicinale magia o segreto della natura che non fosse in suo possesso anche lui era e già da parecchie ore presso la paziente e tutti aspettavano con ansia il risultato della sua consultazione naturalmente non ci si deve immaginare un simile consesso come un congresso medico nel regno degli umani è pur vero che nel regno di fantasia c'erano moltissime creature di specie diverse che nella loro figura esteriore potevano apparire più o meno simili all'uomo ma ce n'erano almeno altrettante se non di più che assomigliavano ad animali o addirittura creature completamente diverse di specie a noi sconosciute tanto multiforme e varia era la schiera dei messaggeri che stavano radunati fuori quanto vario e multiforme era anche il consesso adunato nella sala c'erano medicinani con la barba bianca e la gobba c'erano fate medichesse in scintillanti vesti azzurro-argentate con stelle sfavillanti nei capelli c'erano tritoni con il pancione e le membrane alle mani e ai piedi per loro erano stati allestiti dei semi cupi dove potevano stare comodamente seduti ma c'erano anche serpenti bianchi che si erano acciambellati pensosamente su se stessi sopra una lunga tavola al centro della sala c'erano api silvidi e persino stregoni vampiri e fantasmi tutta gente che in generale non è considerata benevola e adatta a curare la salute per comprendere la presenza di questi ultimi c'è però una cosa che bisogna assolutamente sapere l'infanta imperatrice era considerata in effetti come già dice il titolo sovrana assoluta di tutte le innumerevoli terre e paesi dello sconfinato regno di fantasia ma in realtà era molto di più di una sovrana o per meglio dire era qualcosa di completamente diverso non governava non aveva mai fatto uso di violenza e neppure del proprio potere non dava ordini e non giudicava nessuno non aggrediva nessuno e non doveva mai difendersi da alcun aggressore perché a nessuno sarebbe mai venuto in mente di levare la mano contro di lei o peggio ancora di farle qualcosa di male davanti a lei tutti i suoi sudditi erano uguali lei era semplicemente lì ma lo era in una maniera del tutto speciale era il punto focale il centro di tutta la vita nel regno di fantasia e ogni creatura buona o cattiva bella o brutta seria o allegra sciocca o saggia tutti tutti esistevano solo in grazia della sua esistenza senza di lei nulla poteva esistere così come un corpo umano non può vivere se non ha il cuore nessuno era in grado di comprendere completamente il suo segreto ma tutti sapevano che era così e così appunto essa era in egual misura rispettata da tutte le creature del regno e tutti allo stesso modo si preoccupavano della sua salute e della sua vita perché la sua morte sarebbe stata contemporaneamente la morte di tutti il declino la fine dell'incommensurabile regno di fantasia i pensieri di bastiano divagarono improvvisamente nel ricordo rivide il lungo corridoio della clinica dove era stata operata la mamma egli era stato lì con il papà per molte ore davanti alla sala operatoria medici e infermiere andavano e venivano quando il papà domandava come stava la mamma gli davano sempre delle risposte evasive pareva che nessuno di loro sapesse realmente come stava finché da ultimo era arrivato un uomo calvo con un camice bianco e un'aria stanca e triste aveva detto che tutti gli sforzi erano stati vani e che gli dispiaceva molto aveva stretto la mano a tutte e due e borbottato sentite condoglianze da allora fra il papà e bastiano tutto era cambiato non esteriormente bastiano aveva tutto quello che poteva desiderare possedeva una bicicletta con il cambio un trenino elettrico una quantità di pastiglie di vitamina 53 libri un meso criceto un acquario con pesci di acque tropicali una piccola macchina fotografica sei coltelli a serramanico tutti brevettati e mille altre cose ma in fondo di tutto questo non se ne faceva niente bastiano ricordava bene che prima il papà si divertiva a giocare e scherzare con lui talvolta gli aveva persino raccontato delle storie oppure gliele aveva lette ma ora tutto era finito con il papà non poteva più parlare intorno a lui si era levato come un muro invisibile che nessuno poteva valicare non sgredava mai e non lo dava mai anche quando bastiano era stato bocciato il papà non aveva detto niente lo aveva solo guardato a lungo con quella sua aria così assente preoccupata e bastiano aveva avuto l'impressione di non esistere nemmeno quando la sera sedevano insieme davanti al televisore bastiano si accorgeva che il papà non guardava affatto ma che invece era chissà dove con i suoi pensieri lontano lontano dove lui non poteva raggiungerlo oppure qualche volta quando entrambi avevano un libro da leggere bastiano vedeva che il papà non leggeva per nulla perché per ore e ore stava con gli occhi fissi sulle righe senza mai voltare la pagina bastiano capiva che il papà era triste anche lui del resto aveva pianto per notti intere tanto che a furia di singhiozzare aveva finito col dar di stomaco ma poi anche questo a poco a poco era passato e dopo tutto lui c'era ancora perché il papà non gli parlava mai non gli parlava della mamma non gli parlava di cose importanti ma solo così proprio soltanto dell'indispensabile se soltanto si sapesse stava dicendo in quel momento un lungo e magrissimo spirito di fuoco con una bella barba di fiamme rosse in che cosa consiste la sua malattia non ha la febbre non ha nulla di gonfio nessuna eruzione nessuna infiammazione è davvero come se stesse per spegnersi e non si sa perché quando parlava a ogni frase gli salivano dalla bocca delle minuscole nuvolette di fumo che prendevano forma questa volta la nuvoletta aveva quella di un gran punto interrogativo un vecchio corvo arruffato che pareva una grossa patata in cui qualcuno avesse infilato delle penne nere per diritto e per traverso rispose con una voce gracchiante era uno specialista in malattie da raffreddamento non tossisce non ha il raffreddore non ha assolutamente alcuna malattia in senso medico si rimise gli occhiali in bilico sul becco e guardò gli astanti con aria di sfida una cosa comunque mi appare chiara ronzo uno lo faccio con lo sgarabeo una cosa comunque mi appare chiara ronzo uno scarabeo un coleottero chiamato anche pillolario fra la sua malattia e le terribili cose che ci hanno riferito i molti messaggeri venuti da tutte le parti di fantasia c'è certamente un nesso misterioso ah lei con i suoi nessi interloqui in tono ironico un omino d'inchiostro lei vede sempre ed ha per tutto nessi misteriosi che carino è francese francese e lei invece non vede oltre l'orlo del suo calamaio gli ronzò addosso lo scarabeo veramente infuriato ma cari colleghi gemette un povero fantasma dalle guance incavate che stava rinchiuso in un lungo camice bianco non vorremmo ora cadere in inutili diatribe personali che nulla hanno a che vedere coi fatti e soprattutto abbassate la voce questo discorso e altre simili discussioni avevano luogo in ogni angolo della grande sala del trono forse potrà apparire strano che creature tanto diverse riuscissero a comprendersi così bene ma nel regno di fantasia quasi tutte le creature viventi anche gli animali padroneggiavano alla perfezione almeno due lingue la propria di cui si servivano con i loro simili e che nessun estraneo poteva capire e una seconda di uso generale che si chiamava alto fantasica o anche più comunemente la grande lingua questa tutti la conoscevano anche se qualcuno ne faceva un uso piuttosto singolare improvvisamente nella sala si fece silenzio e tutti gli occhi si volsero verso la grande porta a vetri che veniva aperta in quel momento e di lì entrò Cairone il famosissimo leggendario maestro delle arti magiche mediche scusate Cairone era quello che nei tempi antichi si chiamava un centauro aveva sembianze umane fino alla vita e il resto del corpo era quello di un cavallo ma Cairone era un cosiddetto centauro nero era venuto da terre molto lontane del profondo sud per cui la sua parte umana aveva il colore dell'ebano solo i capelli e la barba erano bianchissimi e crespi mentre la parte equina era zebrata portava uno strano cappello di giunchi intrecciati e al collo aveva appeso a una catena un grande amuleto d'oro sul quale si vedevano due serpenti uno chiaro e l'altro scuro che si mordevano la coda a vicenda formando così un ovale bastiano si fermò di colpo sorpreso richiuse il libro non senza aver prima previdentemente infilato il dito fra le pagine e studiò ancora una volta a lungo la copertina eccoli i due serpenti che si mordevano la coda e formavano l'ovale che cosa poteva significare questo stranissimo segno nel regno di fantasia chiunque conosceva il significato di quel medaglione era il segno distintivo di colui che agiva per incarico dell'infanta imperatrice e che era autorizzato a trattare in suo nome come se lei stessa fosse presente si diceva che esso conferisse a colui che lo portava forze misteriose sebbene nessuno sapesse esattamente quali tutti conoscevano il suo nome Aurin ma molti non osavano nemmeno pronunciare quel nome lo chiamavano il pantakel o semplicemente il gioiello o ancor più semplicemente lo splendore dunque anche il libro portava l'emblema dell'infanta imperatrice un sussurro si diffuse per la sala e si udirono anche alcune esclamazioni di meraviglia e di stupore da molto tempo non era più accaduto che il gioiello venisse affidato a qualcuno Cairone scalpitò per qualche istante battendo un paio di volte gli zoccoli sul pavimento fino a quando l'agitazione che aveva colto la folla si fu calmata poi disse con voce profonda amici non meravigliatevi troppo io porto Aurin solo per breve tempo ne sono soltanto il latore ben presto cederò lo splendore a uno ben più degno di me nella sala si era diffuso un grande silenzio non voglio tentare di diminuire con delle belle parole la portata della nostra sconfitta proseguì Cairone noi tutti ci troviamo qui perplessi e impotenti di fronte alla malattia dell'infanta imperatrice l'unica cosa che sappiamo è che la distruzione di fantasia si va verificando contemporaneamente a questa malattia di più non sappiamo neppure se ci sia arte medica che la possa guarire ma è possibile e io spero che nessuno di voi si offenda se lo dico apertamente è possibile che noi che siamo qui riuniti non possediamo tutte le conoscenze non siamo depositati di tutta la saggezza è persino mia ultima e unica speranza che in qualche parte di questo sconfinato reame esista una creatura più saggia di noi in grado di darci consiglio e aiuto ma questo è più che incerto ovunque possa trovarsi una possibilità di salvezza una cosa è certa la ricerca di questa creatura richiede un esploratore che sia capace di scoprire vie laddove non ne esistono che non arretri di fronte a pericoli di alcun genere che sia in grado di affrontare qualsiasi sforzo o fatica in breve un eroe e l'infante imperatrice mi ha confidato il nome di questo eroe al quale essa affida la sua sorte e quella di tutti noi questo eroe si chiama Atreyu e abita nel mare erboso dietro alle montagne d'argento a lui io porterò Aurin e lo spedirò alla grande ricerca ora sapete tutto e con quelle parole il vecchio centauro uscì dalla sala scalpitando con fragore tutti gli astanti si guardarono confusi e perplessi come ha detto che si chiama questo eroe ah scusami vai tu vai tu io faccio l'altro ok come ha detto che si chiama questo eroe domandò uno Atreyu o qualcosa di simile rispose un altro ma hai sentito esclamò un terzo e tutti i 499 maestri della medicina scossero la testa preoccupatissimi volevo avvisare che sicuramente troverete cioè assisterete a qualche improvvisazione strana nel corso della lettura perché non ce la siamo preparata prima al solito quindi andiamo un po' così che figata è il centauro zebrato sì vero vero emana la saggezza e la voce di Cairone tra l'altro Cairone non so se ci avete fatto caso insomma si chiama Cairone ed è un centauro esperto in medicina i più affini di voi alla mitologia avranno già collegato a Cairone il centauro maestro di 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 Achille mi pare sì che si chiama Cairone ed era un centauro questo si chiama Cairone insomma siamo lì i centauri secondo la la mitologia sono portatori maestro di Ercole di Ercole ma forse anche di Achille o comunque maestro di tutti gli eroi e penso che sia quello a cui poi si sono ispirati per creare filottete o filottete del cartone di Hercules che però non è un centauro è un statico però è più simpatico però comunque sì è un allenatore un maestro nella mitologia comunque è bellissima la voce di Cairone io mi trovo d'accordo con chi ti sta facendo i complimenti in chat carina mi ha ricordato un po' la saggezza di Gandalf eh vabbè sì ma è un po' ispirata è un po' ispirata se dovesse in te fammi leggere qualcosa Laurin è sempre laurin hai visto sì questo oggetto che c'ha ma la saggezza vuoi Cairone va bene Cairone è un po' un po' simile dell'infanzia di noi degli anni ottanta ecco non è non ha niente a che fare con la medicina per il mal di testa no decisamente no ok dai dai sembra sembra proprio un bel capitolo questo si preannuncia tale dai riprendiamo riprendo riprendiamo riprendiamo il campanile batte le dieci bastiano si meravigliò di come il tempo fosse passato in fretta quando era a lezione ogni ora di solito gli pareva durare un'eternità ora giù in classe c'era la lezione di storia con il professor Rombi un uomo magro e patito quasi sempre di cattivo umore che in particolare si divertiva a rendere ridicolo bastiano di fronte a tutta la classe perché non riusciva a tenere a mente le date delle battaglie le date di nascita e gli anni di regno di qualche personaggio storico il mare erboso che si trovava dietro le montagne d'argento era a molti molti giorni di viaggio dalla torre d'avorio si trattava di un'immensa prateria davvero vasta e piatta come un mare grandi erbe succose vi crescevano alte quanto un uomo e quando c'era il vento e quando il vento vi soffiava sopra si piegavano in grandi ondate sulla pianura era come su un oceano e il loro fruscio era come il rumore del mare gli abitanti di questa terra si chiamavano erbiani o pelle verde avevano capelli di un nero bluastro che anche gli uomini portavano lunghi e talvolta raccolti in lunghe trecce e la pelle di un verde scuro che dava un po' sul marrone come le olive insomma erano olivastri conducevano una vita quanto mai morigerata dura e severa e i loro figli maschi e femmine venivano educati al coraggio alla magnanimità e all'orgoglio dovevano presto imparare a sopportare il grande freddo e il grande caldo le più dure privazioni e a dimostrare il loro coraggio il che era necessario perché i pelle verdi erano un popolo di cacciatori tutto ciò che occorreva loro per vivere lo dovevano trarre o dalla dura fibrosa erba della prateria oppure lo dovevano ricavare dai bufali di porpora che pascolavano in enormi branchi nelle immensità del mare erboso questi bufali di porpora erano grandi all'incirca il doppio di tori e vacche normali avevano un lungo mantello lucido e setoso color rosso porporino e grandi corna possenti dalle estremità accuminate e taglienti come pugnali in generale erano animali pacifici ma quando fiutavano il pericolo nell'aria o si sentivano aggrediti potevano diventare terribili come una forza scatenata dalla natura nessuno all'infuori dei pelle verde avrebbe potuto osare dar loro la caccia e per di più solo con arco e frecce e i pelle verde davano la preferenza alla lotta cavalieresca così che spesso poteva accadere che non fosse l'animale a soccombere bensì il cacciatore i pelle verde amavano e veneravano i bufali di porpora e ritenevano di acquisire il diritto di ucciderli soltanto grazie alla loro disponibilità a essere a loro volta uccisi dagli animali fino a questo lontano paese la notizia della malattia dell'infanta imperatrice e della condanna che gravava su tutta fantasia non era ancora arrivata da molto tempo non erano più giunti negli accampamenti dei pelle verde i viaggiatori che venissero da tanto lontano l'erba cresceva più succosa che mai le giornate erano luminose e le notti cariche di stelle tutto pareva perfetto ma un bel giorno comparve all'accampamento un vecchio centauro nero con la barba bianca il sudore gli grondava dal lucido mantello aveva l'aria sfinita a morte e la faccia barbuta era magra e consunta in testa portava uno stranissimo cappello di giunchi intrecciato e al collo aveva una catena da cui pendeva un grosso amuleto d'oro era Cairone se ne stava in mezzo al grande spiazzo al centro dell'accampamento formato da numerosi cerchi concentrici di tende era lo spiazzo dove gli anziani del luogo si radunavano per tenere consiglio dove nei giorni di festa si eseguivano le danze e si cantavano le vecchie canzoni Cairone restò lì ad aspettare e si guardò in giro ma intorno a lui si affollavano soltanto uomini e donne molto vecchi e bambini piccolissimi che lo fissavano incuriositi Cairone scalpitò con impazienza dove sono i cacciatori e le cacciatrici bofonchiò si tolse il cappello e si asciugò il sudore una vecchia dai capelli bianchi con un neonato fra le braccia gli rispose sono tutti a caccia e torneranno solo fra tre o quattro giorni Atreiu è con loro? domandò il centauro si straniero ma come fai a conoscerlo? non lo conosco andate a prenderlo straniero rispose un vecchietto con le stampelle verrà assai malvolentieri perché oggi è il giorno della sua caccia e la sua caccia comincia a calar del sole sai che cosa significa? Cairone scosse la criniera e scalpitò effetti speciali non lo so e non ha alcuna importanza perché ora è chiamato a fare qualcosa di molto più impegnativo voi conoscete questo segno che io porto andate dunque a chiamarlo e portatelo qui vediamo il gioiello disse una bambina e sappiamo che tu vieni da parte dell'infanta imperatrice ma tu chi sei? mi chiamo Cairone intri il centauro il medico Cairone se ciò vi dice qualcosa una donnetta gibbosa si spinse si spinse innanzi e gridò sicuro è proprio lui lo riconosco l'ho già visto una volta quando ero ancora giovane è il dottore più importante più famoso di tutta fantasia il centauro assentì con aria benevola grazie donna disse adesso forse qualcuno di voi sarà così gentile da andare finalmente a chiamare questo atraio è urgente è in gioco la vita dell'infanta imperatrice andrò io esclamò una bambina che poteva avere cinque o sei anni corse via e pochi secondi più tardi la si vide partire al galoppo su un cavallo senza sella finalmente brontolò Cairone e poi stramazzò al suolo privo di sensi quando rinvenne in un primo momento non riuscì a ricordare dove si trovasse perché intorno a lui tutto era oscurità solo a poco a poco comprese di essere in una grande tenda spaziosa e di stare disteso su una morbida coperta di pelliccia pareva che fosse notte attraverso una fessura della tenda che fungeva da porta penetrava il bagliore palpitante di un fuoco santo chiodo di zoccolo mormorò mentre tentava di rialzarsi da quanto tempo me ne sto qui così una testa fece capolino dalla fessura della tenda si ritirò di nuovo e qualcuno disse sì pare che si sia svegliato allora la tenda venne aperta ed entrò un bambino di forse dieci anni indossava calzoni lunghi e scarpe di morbido cuoio di bufalo era a torso nudo solo dalle spalle gli scendeva fino a terra un mantello color rosso porpora evidentemente in tessuto con peli di bufalo i lunghi capelli nero azzurri erano legati dietro al capo con una cordicella di cuoio e formavano un gran ciuffo sulla pelle olivastra della fronte e delle guance erano dipinti in bianco semplici ornamenti gli occhi scuri scintillavano i rati in direzione dello straniero ma per il resto i suoi lineamenti non tradivano alcuna emozione che cosa vuoi da me straniero domandò perché sei venuto nella mia tenda e perché mi hai sottratto alla mia caccia se oggi avessi ucciso il grande bufalo e la mia freccia era già attesa sulla corda quando mi vennero a chiamare domani sarei stato nominato cacciatore ora dovrò aspettare un anno ora dovrò aspettare ancora un anno intero perché il vecchio centauro lo fissava sbalordito vorresti forse dirmi che sei tu Atreio domandò alla fine certo straniero ma non c'è un altro forse un uomo adulto un esperto cacciatore che porti questo nome no Atreio sono io e nessun altro il vecchio cairone si lasciò ricadere sul suo giaciglio e ansimò un bambino un ragazzino per la verità le decisioni dell'infanta imperatrice sono ben difficili da comprendere Atreio taceva e aspettava immobile perdonami Atreio riprese cairone che riusciva a fatica a dominare la sua agitazione non avevo intenzione di offenderti ma la sorpresa per me è stata davvero troppo grande per essere sincero sono fuori di me non so più che cosa pensare mi domando in tutta serietà se l'infanta imperatrice sapesse quel che faceva quando decise di scegliere un bambino come te ma questa è pura follia e se lo ha fatto con chiara intenzione allora allora scosse violentemente la testa e si bilò no no se avessi saputo da che mi mandava mi sarei semplicemente rifiutato di portare il suo incarico mi sarei rifiutato quale incarico domandò domandò a treio ma è un'assurdità gridò cairone ormai trascinato dal suo malcontento portare a compimento il suo incarico sarebbe probabilmente un'impresa impossibile anche per il più grande esperto degli eroi ma per te lei ti manda nell'ignoto alla ricerca di qualcosa che nessuno conosce nessuno ti deve aiutare né consigliare nessuno può prevedere ciò che ti troverai ad affrontare e tu devi decidere immediatamente se in questo stesso istante se accetti l'incarico oppure no non c'è più un minuto da perdere ho galoppato per dieci giorni e dieci notti quasi senza fermarmi per arrivare fino a te ma ora ora vorrei quasi non essere mai arrivato fin qui sono molto vecchio e allo stremo delle forze dammi un sorso d'acqua per favore Atreiu andò a prendere una brocca di fresca acqua di fonte il centauro beve a lunghi sorsi poi si ripulì la barba e disse ora un po' più tranquillo grazie questo mi ha fatto bene mi sento già meglio stai a sentire Atreiu non c'è bisogno che tu accetti l'incarico l'infante imperatrice lascia a te di decidere non ti ordina nulla le spiegherò io come stanno le cose e lei ne troverà un altro non può aver saputo che sei ancora un bambino ti ha certamente scambiato per un altro questa è la sola spiegazione in che cosa consiste l'incarico domandò Atreiu trovare la medicina per l'infanta imperatrice rispose il vecchio centauro e salvare fantasia è malata domandò Atreiu meravigliato cairone cominciò a raccontare dello stato di salute dell'infanta imperatrice e di ciò che i molti messaggeri erano venuti a riferire da tutti i paesi di fantasia Atreiu continuava a far sempre nuove domande e il centauro gli dava spiegazioni come meglio poteva venne fuori un lungo colloquio notturno e quanto più Atreiu comprendeva le reali dimensioni della condanna che gravava su fantasia tanto più chiara si dipingeva sul suo volto prima così chiuso una scoperta costernazione e di tutto questo io non sapevo nulla mormorò alla fine con le labbra pallide cairone guardò il ragazzo da sotto le sue cespugliose sopracciglia bianche con occhi seri e colmi di dolore ora sai come stanno le cose e forse capirai anche perché ho perso la pazienza quando ti ho visto eppure l'infanta imperatrice ha fatto proprio il tuo nome va e cerca Atreiu mi ha detto ripongo in lui tutta la mia fiducia ha detto ancora domandagli se vuole assumersi l'incarico di iniziare la grande ricerca per me e per fantasia così ha detto io non so proprio come mai sia caduta su di te forse solo un bambino come te può portare a termine questo impossibile compito io non lo so e non ti posso consigliare Atreiu vecchio centauro ma tu non lo devi usare perché anche l'infanta imperatrice non fa mai uso del suo potere Auren ti proteggerà e ti guiderà ma tu non dovrai mai attaccare qualunque cosa tu debba vedere poiché da questo momento la tua opinione non conta più perciò devi partire senza armi devi lasciare che accada tutto ciò che deve accadere tutto deve essere uguale per te il bene e il male il bello e il brutto la stupidità e la saggezza così come per l'infanta imperatrice tu devi soltanto cercare e domandare ma mai sentenziare secondo il tuo giudizio non dimenticartelo mai Atreyu Auren ripeté Atreyu devotamente mi mostrerò degno del gioiello quando devo partire ora subito rispose Cairone nessuno sa quanto a lungo potrà durare la tua grande ricerca può darsi che ne vada di ogni ora che passa vai a dire addio ai tuoi genitori e ai tuoi fratelli non ne ho replicò Atreyu i miei genitori furono entrambi uccisi dal bufalo poco dopo che io ero venuto al mondo chi ti ha allevato tutti gli uomini e le donne insieme per questo mi hanno dato il nome di Atreyu che è tradotto nella grande lingua significa figlio di tutti come sta andando? per me molto bene non so vediamo dobbiamo recuperare i commenti perché sono dall'altra parte nell'altra scheda e io sono ciecata quindi Franz ammettilo che nella borraccia hai anche tu l'assenzio mi hai scoperto il coraggio non è età io li leggo al contrario i commenti ah ok infatti dove è sto commento? no 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 allora cerchiamo di riprendere quanti ok Franz in effetti somiglia a Sarum manda giovane a Laurin è davvero uno dei primi simboli misteriosi che da bambina mi apriva un mondo come tutti quanti di piccolo hanno visto il film ho letto il libro è vero Gabriella ah questi sono quelli vecchi che cavolo io poi mi sto rincoglionendo male scusami vale che fa i vecchietti è troppo forte sì è simpatico tra l'altro quell'ultimo che hai fatto era proprio carino e aspetta che arriviamo a angie food buono il bufalo buono il bufalo come buono il bufalo max vertimer buono il bufalo e poi c'è mangio pure le stelle vabbè qua c'è Zelcor che si che si vanta del suo del suo appello sì Zelcor Zelcor tu sei il nulla allora aspetta il nulla di fantasia intendo e non il nulla ma il dottor Cairone quando fa le visite domiciliari si sposta in moto essendo un centauro certo con la giacca in pelle max vabbè Zel dice ma perché una corte che tranquillamente ha come imperatrice una bambina non accetta che un cacciatore possa essere un ragazzo è vero è capito è vero perché perché in realtà già il centauro pensa già abbiamo un'imperatrice che non fa niente adesso questa nomina pure i bambini come come insomma portare queste queste responsabilità insomma è un po' un po' sarà un po' disperato va bene comunque bellissima l'infante imperatrice che in realtà deve deve essere tutto uguale per lei il bene il male il bello il brutto la stupidità e la saggezza sì e non deve dare un suo giudizio è l'infanta buddha è l'infanta buddha è vero è l'infanta buddha l'infanta sì è proprio illuminata questo è un messaggio forte dai continuiamo dai che ancora ce n'è di roba e ancora ce n'è di roba è il secondo capito è bello lungo nessuno meglio di bastiano poteva capire che cosa volesse dire anche se suo padre dopo tutto era ancora in vita e atreio non aveva né padre né madre in compenso però atreio era stato allevato in comune da tutti gli uomini e da tutte le donne del suo paese ed era il figlio di tutti mentre lui bastiano in fondo non aveva nessuno sì a dir la verità era il figlio di nessuno ciò nonostante però bastiano fu contento di poter avere in questo modo qualcosa in comune con atreio perché per il resto non aveva con lui nessuna somiglianza purtroppo non aveva il suo coraggio la sua decisione e non gli somigliava neppure col fisico eppure anche lui bastiano anche lui era alla grande ricerca e non sapeva dove lo avrebbe portato e come sarebbe andata a finire allora disse il vecchio centauro è meglio che tu te ne vada senza fare addì io resterò qui e spiegherò loro ogni cosa il volto di atreio si fece ancor più sottile e più duro dove dove devo cominciare ovunque e da nessuna parte gli rispose cairone da questo momento tu sei solo e nessuno ti può consigliare e così sarà fino alla fine della grande ricerca comunque essa possa finire atreio annui addio cairone addio atreio e buona fortuna il bambino si volse e stava già per uscire dalla tenda quando il centauro lo richiamò indietro ancora una volta quando si trovarono di fronte il vecchio gli posò entrambe le mani sulle spalle lo guardò con un sorriso pieno di rispetto e disse solennemente credo di cominciare a capire perché la scelta dell'infanta imperatrice è caduta su di te atreio il ragazzo abbassò un poco la fronte e poi uscì rapidamente fuori dalla tenda lo aspettava Artax il suo cavallo era un bel pezzato piccolo come un pony aveva le gambe corte e tarchiate eppure era il corridore più veloce e tenace che ci fosse in tutto il paese era ancora sellato e con tutti i finimenti così com'era quando Atreio era tornato dalla caccia Artax gli sussurrò Atreio e lo battè amorevolmente sul collo dobbiamo partire nessuno può dire se torneremo mai il cavallino annui con la testa e sbuffò leggermente te lo faccio io vai vai fammi Artax sì padrone Nitri in risposta e che ne è della tua e che ne è della tua caccia andiamo a una caccia molto più importante Artax replicò Atreio e montò in sella alte padrone Nitri il cavallino hai dimenticato hai dimenticato le tue armi vuoi partire senza arco e senza frecce sì Artax rispose Atreio perché porto addosso lo splendore e devo essere disarmato ah e dove dobbiamo andare dove dove vuoi tu Artax replicò Atreio da questo momento siamo alla grande ricerca e con ciò partirono al galoppo e subito furono inghiottiti dal buio della notte in quella stessa ora in un altro luogo di fantasia accadeva qualcosa che nessuno notò e di cui né Atreio né Artax e nemmeno il vecchio Cairone avevano la più pallida idea su una lontanissima brughiera notturna l'oscurità si condensò fino a diventare una gigantesca forma fatta d'ombra il buio si infittì fino a quando persino nella notte buia di quella buia brughiera si materializzò una specie di corpo poderoso fatto solo di nero i contorni non erano ancora nitidi ma già stava lì su quattro enormi zampe e negli occhi di quel possente testone velloso fiammeggiava un bagliore verde poi la forma levò in alto il gran muso annusando l'aria restò così per un tempo lunghissimo ed improvviso parvi aver trovato l'odore che cercava perché dalla sua gola uscì un rombo profondo di trionfo cominciò a correre a lunghi salti silenziosi la creatura d'ombra prese ad avanzare a precipizio nella notte senza stelle il campanile batte le undici adesso cominciava l'intervallo dai corridoi arrivava fin lassù lo strepito dei bambini che correvano fuori in cortile per la ricreazione bastiano che sedeva ancora a gambe incrociate sulle stuoie da ginnastica aveva gli arti intorpiditi non era un indiano appunto si alzò tolse dalla cartella il panino e la mela della merenda e cominciò a camminare un po' su e giù per la soffitta sentì un gran formicolio nei piedi e pian piano le membra intorpidite si risvegliarono allora saltò in groppa al cavallo da ginnastica e sedette in sella come un cavaliere immaginò di essere Atreiu che in groppa ad Artax galoppava nel cuore della notte si chinò sul collo del suo cavallino oppà gridò oppà corri Artax corri poi si spaventò era terribilmente imprudente mettersi a gridare in quel modo se qualcuno l'avesse udito aspettò un momento restando in ascolto ma dal basso saliva soltanto l'allegro brusio delle molte voci che venivano dal cortile vergognandosi un po' Bastiano si lasciò scivolare giù dal cavallo di cuoio davvero si comportava come un bambino piccolo scartò il suo panino imbottito e si strusciò la mela contro i calzoni fino a quando fu lucidissima ma mentre stava per dare il primo morso si fermò no disse a voce alta a se stesso devo suddividere con cura le mie provviste chissà per quanto tempo dovrò farle durare molto a malincuore rimise il suo panino nella carta e lo infilò nuovamente insieme alla mela nella cartella poi con un sospiro si lasciò nuovamente cadere sulle stuoie e riprese in mano il libro ma è finito è finito è finito il secondo capitolo è finito ma è volato era lunghissimo c'è volato questo era lunghissimo e c'è volato è finito è finito wow mannaggia recuperiamo un attimo i commenti recuperiamo un attimo sì 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 allora ah è arrivata Vir ecco ciao Vir infatti tutti la salutano ciao Vir è arrivata a rubarci la scena guarda un po' è arrivata a rubare la scena scherzo vai lare scherziamo è finito di già Rosanna sì è finito è volato perché veramente si vede che ci siamo che ci siamo divertiti ancora di più sì sto dando un'occhiata a quanto è lungo il terzo capitolo intanto io tanto per farci un'idea sì ammazza quanto è lungo il terzo capitolo eh forse se c'è un mezzo pensiero di cominciarlo però mi sa che è meglio di no mi sa che è meglio di no è proprio lungo sono le dieci e mezza questo ci abbiamo messo un'oretta più o meno a farlo sì qualcosina di meno però insomma sì considerato che abbiamo siamo partiti un po' tardi per la mia incapacità tecnica sì è già finito non me l'aspettavo pensavo che anche io me lo ricordavo più lungo invece sono sceso adesso perché sono sul tablet scendo scendo ma non c'è niente no è finito è finito è finito vedi oppla corri Artax e corre anche il capitolo ma corri Artax a proposito parliamo un attimo di questa cosa perché allora anzitutto io scusatemi vorrei fare i miei complimenti a Fra perché io sono abituata a sentirti leggere le interpretazioni negli audio già registrati vederteli fare dal vivo wow ah perché mi vedete vero oltre a sentirmi beh guarda ti dico che io tengo gli occhi incollati sullo schermo quindi non ti guardo però ti sento ed è cioè è bellissimo sentirteli interpretare così in presa diretta grazie ma piuttosto penso che i ragazzi in chat me lo confermeranno ma quanto è dolce la musicalità la narrazione di Valentina io faccio fatica un po' a tenere perché io ho uno stile di lettura che è più più aggressivo più più legnoso e si nota se avete se avete sentito qualcosa sul mio canale quindi insomma cerco di ammorbidire un po' per seguire lei che è molto morbida e che è molto giusta per questa narrazione di fiaba e di è così e quindi non lo so io credo che sia invece non ti sento così legnoso ti sento molto delicato di solito adesso cerco di ammorbidire un po' per starti dietro come per essere un po' più morbido anch'io perché di solito nelle mie altre cose nel mio modo di leggere sono più rigido un po' più rigido però ecco è quello siccome mi piace questa cosa di fare le voci di cambiarci personaggi a me sta piacendo tantissimo che bello è vero e poi sì e poi ce ne saranno penso tante quindi insomma continuiamo così con le vocine che e poi la mia grande preoccupazione la mia più grande preoccupazione io penso che sia condivisa da tanti ma da noi che leggiamo per noi che leggiamo è amplificata in realtà sarà il fatidico momento delle fallute della tristezza cioè io sto già male è vero devo morire cioè io probabilmente piangere mentre leggo voi non ci fate caso poi io prendo un fazzo di tiro e mi asciugo gli occhi perché ma tranquilla tanto casomai casomai ti mettiamo ma fa io te la butto lì visto che tu hai la fantastica possibilità di inserire delle note all'interno del testo cosa che io non posso fare vogliamo provare ad entrare un pochino nel terzo e di fermarci in un certo punto ok in cui magari ci sembra di poter prendere nota o preferisci rimandare alla prossima live ma sì ma vediamo che cosa ci scrivono i nostri amici qua che ci che ci ascoltano e che siete collegati preferite che facciamo una prossima live con un terzo capitolo intero o andiamo avanti un pochino e riprendi però non lo finiremo tutto per forza non credo però e lo lasciamo che ne so a metà a un terzo un quarto volete che leggiamo un altro pezzetto del terzo oppure no insomma e poi nel frattempo mentre ci pensate avete visto che Artax parla cioè Artax che parla Artax che parla Artax parla Patti dice avanti sì dai continuate Zelkor l'interpretazione dei personaggi è preparato o è all'impatto perché sono assurdamente perfette grazie Lady Lady Viper Vendetta Lady Viper Vendetta no sono improvvisate insomma io personalmente ho un parco di voci che dico infatti quando faccio Cairone gli faccio la voce da vecchio quando ho altre voci le cambio anche Valentina insomma le ha improvvisate qui sul momento quindi perché in realtà noi ci stiamo provando cioè almeno io avrei voluto provare a fare la brava lettrice e dire ok leggiamo prima così facciamo meno errori possibili ma la verità è che non ci abbiamo mai tempo tutti e due quindi ci stiamo riducendo a leggerlo in live ogni volta è così no ma stavolta ci vediamo prima e ci prepariamo prima le cose e poi non succede mai infatti come avete visto ci siamo accavallati pure un attimino insomma non succede mai quindi anche andando avanti sicuramente ci vedrete un po' metterci d'accordo sulle varie voci sulle cose ma a noi piace così anche perché è anche un rendere partecipi voi della della lavorazione di quello che può essere una lavorazione esatto senza estemporanea perché ovviamente c'è uno studio cioè non c'è lo studio che c'è quando invece prepari una registrazione eh privatamente però è una cosa che ci diverte no un po' sì sì assolutamente altro che un po' altro che un po' a me piace la diretta siete spostati molto meglio della tv yeee grazie beh di questi tempi ci vuole poco per essere meglio della tv però grazie belle sì però grazie per tutti i complimenti no no grazie assolutamente di cuore è bella l'improvvisazione beh sì insomma è improvvisazione di voce perché poi il testo c'è fortunatamente è scritto perché improvvisare le battute è tutta un'altra quella è tutta un'altra tra l'altro paio di mani che infatti non ce le ho c'è caldo insomma e lasciamo stare e che facciamo allora andiamo un pezzettino avanti poi al massimo metti il segno tu dove siamo arrivati e ci rivediamo lì sì 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 facciamo così dai continuiamo adesso continuiamo un po' continuiamo un po' col terzo capitolo e vediamo dove ci sentiamo ci mettiamo un segno e poi allora entriamo nel terzo capitolo che si chiama che si intitola che si chiama che è una persona la vecchissima morla Cairone il vecchio centauro nero udendo perdersi in lontananza il rimbombo degli zoccoli del cavallino di Atreiu si lasciò ricadere sul suo giaciglio di morbide pelli quello sforzo aveva esaurito le sue ultime energie le donne che il giorno dopo lo ritrovarono nella tenda di Atreiu temettero per la sua vita quando ritornarono i cacciatori le cose non erano ancora migliorate di molto ma il vecchio centauro fu perlomeno in grado di spiegar loro perché Atreiu se ne fosse andato in quel modo e neppure sarebbe ritornato tanto presto poiché tutti volevano molto bene al ragazzo da quel momento si fecero molto seri e cominciarono a pensare a lui con ansia e timore al tempo stesso però erano anche molto fieri che l'infanta imperatrice avesse dato proprio ad Atreiu l'incarico di partire alla grande ricerca anche se nessuno per la verità riusciva a spiegarsi bene la cosa il vecchio Cairone d'accanto suo non ritornò mai più alla torre d'Avorio però non morì e neppure restò presso i Pelle Verde la sua sorte doveva condurlo per una strada del tutto diversa assolutamente inattesa ma questa è un'altra storia e si dovrà raccontare un'altra volta Atreiu cavalcò quella notte stessa fino ai piedi delle montagne d'argento era già quasi mattina quando si fermò per un breve riposo Artax pascolò un po' brucando intorno e si abbeverò alle fresche acque di un limpido ruscello di montagna Atreiu si avvolse nel suo mantello rosso e dormì un paio d'ore ma quando il sole si levò i due erano già di nuovo in viaggio il primo giorno traversarono le montagne d'argento qui conoscevano ogni strada e ogni sentiero e avanzarono rapidamente quando gli venne fame il ragazzo mangiò un pezzetto di carne di bufalo affumicata e due piccoli pani di semi d'erba che portava in una sacca appesa alla sella erano le provviste che aveva con sé per la caccia ma certo esclamò bastiano di tanto in tanto bisogna pur mangiare qualcosa tolse dalla cartella il pacchetto della merenda lo scartocciò divise accuratamente il panino in due parti ne avvolse una di nuovo nella carta e la rimise via l'altra la mangiò giù in cortile la ricreazione era finita bastiano pensò un momento quale lezione sarebbe cominciata ora ah sì giusto geografia con la signora magrini con lei bisognava saper recitare a tiritera nomi di fiumi e affluenti città e numero di abitanti ricchezze del sottosuolo e industrie bastiano fece un'alzatina di spalle e riprese a leggere scusate questa scena nel film a me faceva sempre venire un sacco di fame io non me la ricordo io ho pensato solo alla barbabietola da zucchero adesso perché mi veniva in mente le lezioni di geografia allora nel film nel film lui comincia a piovere e bastian si avvolge in una coperta di fortuna che trova lì nella soffitta tira fuori una mela e spezza divide un panino un toast non lo so infatti con quel pane a cassetta lo divide a metà e ne tiene metà per dopo a me quella scena faceva sempre venire una fame incredibile tuttora se guardo il film a quella scena io mi devo fermare devo andare a prendere qualcosa da mangiare e ritornare sul divano scusate ma quando mi ha fatto venire fame sentirtela leggere per cui ok all'ora del tramonto ah scusami no no vai 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 all'ora del tramonto i due si erano già lasciati alle spalle le montagne d'argento e si fermarono nuovamente per la notte nel sonno Atreyu sognò i bufali di porpora li vedeva in lontananza correre attraverso il mare erboso e cercava di avvicinarsi a loro con il suo cavallino ma era inutile per quanto lui spronasse il suo bravo Artax i bufali restavano sempre alla stessa distanza il secondo giorno attraversarono la terra degli alberi cantanti ciascuno di essi aveva una forma diversa foglie differenti e anche una diversa scorza ma la ragione per cui il paese portava quel nome era che si poteva udire la crescita della vegetazione come una musica leggera che risuonava da lontano e da vicino raccogliendosi in tutto raccogliendosi in un tutto tanto possente che in quanto a bellezza non la si poteva confrontare con nessun'altra cosa in tutta fantasia a girarsi per quella regione era peraltro considerato non del tutto scevro di pericoli perché più di un viandante vi era già rimasto prigioniero come bloccato da un incantesimo dimentico di ogni altra cosa anche Atreio avvertì il magico incanto di quei suoni meravigliosi ma non si lasciò affascinare al punto di fermarsi nella notte che seguì sognò nuovamente i bufali di porpora questa volta però egli era a piedi ed essi gli passavano davanti in un immenso baranco ma erano fuori del raggio del suo arco e quando volle avvicinarsi si accorse di non poter muovere i piedi quasi fossero inchiodati al terreno dallo sforzo che fece per staccarli dal suolo si svegliò non era ancora l'alba ma subito si rimise in viaggio il terzo giorno vide le torri di vetro di Eribo nel quale gli abitanti del luogo catturavano e raccoglievano la luce delle stelle e con essa fabbricavano oggetti meravigliosamente decorati che peraltro all'infuori di loro stessi nessuno in tutta fantasia sapeva a che cosa potessero servire incontrò persino alcuni di questi abitanti minuscole figure che parevano anch'esse fatte di vetro tutti lo rifocillarono con estrema gentilezza offrendogli cibi e bevande ma alle sue domande su chi potesse eventualmente sapere qualcosa circa la malattia dell'infanta imperatrice sprofondavano in un triste e sconsolato silenzio nella notte che seguì Atreyu tornò a sognare che il grande branco di bufali di porpora gli passava davanti vide chiaramente che uno degli animali un toro particolarmente grosso e poderoso si staccava dal gruppo e si dirigeva verso di lui lentamente senza ombra di paura o di collera come tutti gli autentici cacciatori Atreyu aveva il dono di individuare immediatamente in ogni animale il punto venerabile dove bisognava colpire vulnerabile dove bisognava colpire per ucciderlo anzi gli sembrava che il toro si mettesse addirittura nella posizione giusta per offrirsi come bersaglio Atreyu inserì rapido la freccia e tese l'arco con tutte le sue forze ma non riuscì a scoccare la freccia pareva che le dita gli si fossero legate intorno alla corda dell'arco e pressa poco lo stesso gli accadde in tutti i sogni che fece nelle notti seguenti arrivava sempre più vicino al bufalo di porpora e si trattava proprio dell'animale che avrebbe voluto uccidere durante la sua caccia riconoscibile dalla macchia bianca sulla fronte ma per una ragione o per l'altra non riusciva mai a far partire la freccia mortale durante il giorno continuava a cavalcare senza sapere dove andare e senza neppure incontrare qualcuno che potesse eventualmente dargli qualche consiglio o indicazione la muleta d'oro che portava al collo era guardato con gran rispetto da tutti coloro che incontrava ma alle sue domande nessuno sapeva rispondere un giorno vide in lontananza le strade fiammeggianti della città di Brooks dove abitavano creature dal corpo di fuoco ma preferì non inoltrarvisi traversò invece il grande altopiano dei sassafrani che nascono vecchissimi e muoiono quando sono diventati poppanti arrivò al tempio di Muhammad nella foresta vergine dove un'enorme colonna di pietra lunare si librava alta nell'aria e parlò con i monaci che vivevano nel tempio ma anche di lì dovette ripartire senza aver avuto alcuna indicazione era ormai in cammino da quasi una settimana vagando di qua e di là senza una direzione precisa quando al settimo giorno e nella notte che seguì accaddero due fatti completamente distinti fra loro che mutarono totalmente la sua situazione interiore e anche esteriore il racconto che il vecchio Cairone gli aveva fatto circa le terribili cose che si andavano registrando in tutte le più lontane contrade di fantasia lo aveva sì impressionato ma per lui fino a quel momento era rimasto in fondo soltanto un racconto ma al settimo giorno si trovò ad affrontare quella realtà con i suoi stessi occhi era quasi mezzogiorno quando attraversò di buon trotto un bosco fitto e oscuro fatto di alberi giganteschi e particolarmente nodosi si trattava di quel famoso bosco frusciante in cui qualche tempo prima si erano incontrati i quattro messaggeri in quella regione questo Atreiu lo sapeva vivevano i trolli di corteccia erano costoro come gli era stato raccontato tipi e tipe di enormi proporzioni che avevano essi stessi l'aspetto di tronchi nodosi quando restavano immobili come del resto era loro abitudine si poteva benissimo scambiarli appunto per degli alberi e passarvi davanti senza vedersi di nulla soltanto quando si muovevano si vedeva che avevano braccia a forma di rami e gambe come contorte radici possedevano una forza straordinaria ma non erano pericolosi tutt'al più si divertivano ogni tanto a giocare tiri birboni ai viandanti sperduti Atreiu aveva giusto appunto scoperto nel cuore del bosco una radura con un prato nel mezzo del quale serpeggiava tortuoso un ruscelletto ed era sceso di sella per lasciare che Artax brucasse e si abbeverasse un poco quando all'improvviso udì dietro di sé nel bosco un gran fracasso un tremendo crepitio e cigolio di legno si voltò di scatto dal fitto del bosco arrivavano tre trolli di corteccia la cui vista bastava far correre un brivido di spavento fino in fondo alla schiena al primo mancavano le gambe e l'addome così che doveva camminare sulle mani il secondo aveva un buco enorme nel petto tanto grande che si poteva vedere dall'altra parte il terzo avanzava saltellando sull'unica gamba la destra perché gli mancava completamente la parte sinistra come se fosse stato tagliato verticalmente a metà da cima a fondo quando videro l'amuleto sul petto di Atreiu i tre si scambiarono occhiate d'intesa e vennero avanti lentamente te li faccio io i trolli vai andiamo coi trolli non spaventarti no questo è troppo gandale carote è troppo gandale cairone non spaventarti disse quello che camminava sulle mani e la sua voce suonò come il cigolio di un albero che si piega la nostra vista non è certo uno spettacolo attraente ma in questa parte del bosco frusciante non c'è più nessuno all'infuori di noi in grado di avvertirti per questo siamo venuti avvertirmi domandò Atreiu e di cosa? abbiamo sentito parlare di te gemette quello con il petto bucato e ci hanno raccontato la ragione del tuo viaggio non devi assolutamente proseguire per questa strada altrimenti sei perduto altrimenti ti succede quel che è successo a noi sospirò quello tagliato a metà guarda un po' vorresti fare questa stessa fine ma cosa vi è successo? si informò Atreiu la distruzione si va estendendo si lamentò il primo cresce cresce e dilaga sempre più se mai si potesse dire che il nulla cresce tutti gli altri sono fuggiti per tempo dal bosco frusciante ma noi non volevamo abbandonare la nostra terra e così ci ha colti nel sonno e ci ha fatto di noi ciò che ora tu hai davanti agli occhi fa molto male domandò Atreiu no rispose il secondo dei trolli quello col buco nel petto non si sente niente è soltanto che ti manca un pezzo e una volta che sei colpiti ogni giorno ti manca qualcosa di più presto non esisteremo più del tutto qual è il punto del bosco dove è cominciato volle sapere Atreiu lo vuoi vedere il terzo dei trolli quello che era solo una metà guardò i suoi compagni di sventura con aria interrogativa quando quelli assentirono proseguì ti porteremo fino a un punto da cui potrai vedere ma da parte tua devi promettere di non andare un passo più in là altrimenti ne sarai attratto irresistibilmente va bene lo prometto i tre si voltarono e si diressero verso il margine del bosco Atreiu prese Artax per la briglia e li seguì per un po' camminarono a destra e a manca in mezzo a quegli alberi giganteschi poi davanti a un tronco particolarmente robusto si arrestarono era enorme cinque omaccioni grandi e grossi non sarebbero bastati per abbracciarlo arrampicati più in alto che puoi suggerì il trollo senza gambe e guarda dall'altra parte da cui sorge il sole là lo vedrai o meglio non lo vedrai Atreiu si accinse a scalare il tronco appigliandosi alle sue gibbosità arrivò ai rami inferiori si spinse più su fino a un ramo più in alto poi con un'altra spinta si portò ancora più in su al ramo successivo e così sempre più avanti fino a che non vide più nulla di quello che stava sotto di lui continuò ad arrampicarsi il tronco si faceva a mano a mano sempre più sottile e i rami laterali più numerosi di modo che salire gli riusciva sempre più facile quando alla fine si trovò a sedere sulla cima svettante volse lo sguardo dalla parte da cui saliva il sole e lo vide le cime degli altri alberi quelli vicinissimi erano verdi di foglie ma il fogliame degli alberi un poco più avanti pareva aver perduto ogni colore era diventato un grigio e ancora un poco più oltre il fogliame pareva stranamente trasparente come avvolto dalla nebbia o per meglio dire pareva farsi sempre più irreale e ancora più in là non c'era più nulla assolutamente nulla non una zona non una zona di bosco spoglia di verde non un'oscurità né un chiarore era piuttosto qualcosa che risultava insopportabile alla vista e dava a chi vi fissava lo sguardo l'impressione di essere cieco poiché non c'è occhio che possa sopportare di fissarsi nel nulla assoluto Atreiu si coprì il volto con le mani e per poco non cadeva dal suo ramo vi si aggrappò con forza e poi ridiscese quanto più in fretta potè aveva visto abbastanza solo in quel momento comprendeva tutto l'orrore del male che andava dilagando in fantasia quando fu a terra ai piedi dell'albero gigantesco i tre trolli erano scomparsi Atreiu montò in groppo al suo cavallino e a buon galoppo fuggì in direzione opposta a quella da cui saliva lento e minaccioso inesorabile quel pauroso nulla solo quando fu di nuovo bo scusate solo quando fu di nuovo notte e il bosco frusciante era ormai lontanissimo Atreiu si arrestò per riposare e fu in quella notte che lo aspettava il secondo evento che doveva dare una nuova direzione alla sua grande ricerca sognò cioè e ancor più chiaramente di quanto avesse mai fatto fino allora il grande bufalo di porpora che avrebbe voluto uccidere durante la sua caccia questa volta gli stava davanti senza arco né freccia si sentiva piccolo piccolo e la testa dell'animale lo sovrastava colmando tutto il cielo allora udì il bufalo che gli parlava non poteva afferrare ogni parola ma ciò che il bufalo disse era pressa poco questo se tu mi avessi ucciso ora saresti un cacciatore ma tu hai rinunciato così io ora ti posso aiutare Atreiu ascolta c'è in fantasia una creatura vecchissima la più vecchia di tutte quelle che vi abitano lontano lontano di qui nel nord del regno si trovano le paludi della tristezza nel mezzo di quelle paludi si alza la montagna di corno là abita la vecchissima morla vai a cercare la vecchissima morla a quelle parole Atreiu si svegliò il campanile batte le dodici ora i compagni di Bastiano scendevano in palestra per l'ultima ora di lezione che era ginnastica forse oggi avrebbero giocato a palla prigioniera un gioco nel quale Bastiano era di solito particolarmente maldestro ragione per cui nessuna delle due squadre lo voleva dalla propria parte talvolta però invece che col pallone giocavano con una palla più piccola dura come un sasso che faceva un male tremendo quando arrivava in testa e in testa Bastiano se la prendeva spesso e in pieno anche perché lui offriva un facile bersaglio forse oggi ci sarebbero stati anche gli esercizi con la fune cosa che Bastiano detestava con tutte le sue forze quando gli altri erano già in cima lui di solito penzolava ancora con la testa paonazza all'estremità inferiore della fune come un sacco di patate e non riusciva a sollevarsi di mezzo metro con sommo divertimento di tutta la classe che chiocciava dalle risa mentre il maestro di ginnastica signor massa non gli risparmiava battute sarcastiche Bastiano avrebbe dato chissà che cosa per poter essere come Atreio allora sì che gliel'avrebbe fatta vedere a tutti quanti sospirò profondamente io suggerirei di fermarci ci fermiamo ok sì ci fermiamo perché se scorri di qualche riga vedi una tragedia imminente io non credo di essere psicologicamente pronta oggi no 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 ci facciamo una cosa dedicata una serata dedicata sì anche perché vorrei che venisse fuori bella quindi questa vorrei sì 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 magari ce la leggiamo prima non lo so a questo punto è piazza e cuore ci fermiamo qui ci fermiamo qui prendi tu il segno ho preso il segno io grazie aspetta che anche se non urlo magari visto che c'è un microfono e mi senti ti sento benissimo non è urlato tranquillo ok allora ragazzi ok io intanto mi avvicino e strizzo gli occhi perché leggo sì sì leggi i tuoi commenti io nel frattempo salvo salvo un attimo il file intanto cerco di capire dove siamo arrivati con i commenti aspetta che magari mi posso anche avvicinare il pc yeeey facciamo così non so mi vedete ancora non ho idea se mi vedete ancora allora continuate se non siamo stanchi eravamo qua lo spettacolo deve continuare ci dice Imotep è continuato per un po' sì abbiamo continuato per un pochino insomma non vogliamo togliere non vogliamo togliere insomma belle 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 emozioni al prossimo appuntamento quindi insomma ci fermiamo qua Zelkor è gasato perché tra un po' c'è la tartaruga tra un po' tra un po' tra un po' vedrai la tartaruga Morla amo questa parte le dv per vendetta è bellissima questa parte Zelkor dice non ci sono nel film i tre troll no? no 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 assolutamente c'è c'è tutto un riassunto diciamo così di un bel pezzo del libro in realtà Rosaria ci fa i complimenti grazie mille Zelkor suggerisce di farci un panino burro d'arachidi e marmellata e bufalo ora ho capito del bufalo di prima di Max aveva un pezzo aveva aveva forse le cose i pezzetti di carne di bufalo bastiano a marian piacciono le voci grazie grazie marian Gabriella dice Franz sei pieno di sorprese e di voci eh qualcuna sì qualcuna sì infatti mi ero portato avanti con la lettura perché lo faccio sempre vado un po' più avanti avevo visto che c'erano questi tre troll e ho detto vabbè li faccio io Zelkor Zelkor ha centrato il segno fra perché dice alla prossima prepariamo fazzoletti e psichiatri sì Zelkor certo sì certo beh psichiatri sì fazzoletti alla prossima Xanax Consulor tutto il possibile dice integra mariam io ragazzi non lo so come arriviamo Giovanni Battaglia Giovanni Battaglia è mio Giovanna Battaglia ah è mia madre ciao ma oh ciao mamma di fra Giovanna Battaglia belli alla prossima grazie ma mi sta seguendo vedi che che palle no ma sì che perfetta per questa lettura grazie 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 mille ma siete stati allora se qualcuno ha fatto complimenti e non e non ho letto e non abbiamo letto i commenti grazie comunque che io mi imbarazzo un po' quando vedo che ci sono commenti mi imbarazzo un po' a leggerli tutti perché mi sembro tipo autocelebrativa e non mi trovo a mio agio neanche io mi trovo bene a mio agio con i complimenti o con cose quindi insomma intanto per me già vi sono grato che già state guardando insomma che già ci state seguendo già per me è veramente una una gran cosa quindi insomma vi ringrazio già solo per questo è tutto battaglia sicilian sì sono siciliano sono palermitano mariam sarebbe bellissimo fra se riuscissi vabbè questo adesso magari le tengo per il dopo per il dopo live tu pensa fare no vabbè ormai lo dico abbiamo detto tu pensa fare una serata di lettura dal vivo proprio della maratona della della storia infinita che bello cioè dal vivo di persona dal vivo dal vivo di persona sarebbe bellissimo sarebbe un sogno sarebbe un sogno sì cavolo sarebbe veramente allora fate girare questo video queste live e quando abbiamo quando ci sarà un bel pubblico faremo un raduno in una città che sarà designata e facciamo un una lettura live una maratona live di della storia infinita ok l'insegno di Artax la chiamiamo la serata bellissimo siete stati pessimi meglio così grazie finalmente mi sento meglio grazie 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 non so se posso dire il tuo nome perché lo conosco il nome di Audio Raccontando io lo conosco però vabbè grazie Audio Raccontando infatti anch'io dico grazie Audio Raccontando perché all'inizio ho avuto lo stesso dubbio dico ma grazie Audio Raccontando Franz I'm in Sicily now ah Mariam sei in Sicilia adesso concerti con lui mi si alza l'antenna hai visto sei in Sicilia che fai in Sicilia dove tra l'altro da quale parte perché io sono a Palermo Franz è in Sicily per cento secolo grazie Gabriellotica ho studiato un po' per toglierlo almeno quando quando leggo quando interpreto poi quando parlo normalmente non mi interessa se si senta o meno anzi mi piace anche un po' scusami per ridi e ci commenti si si lo sanno tutti sono Batman ah scusa Renato scusa Renato scusaci Renato oddio vabbè l'abbiamo detto Renato di Audio Raccontando Renato Renato di Audio Raccontando comunque io ci ho studiato a Palermo ciao dalla provincia di Siracusa ciao Max dalla provincia di Siracusa è bella Siracusa è bella tutta la Sicilia siamo fortunati ad essere siciliani Max Milazzo ah guarda vivo in Sicilia ma dall'altra parte Milazzo ok quindi insomma dall'altra dall'altra versante sto combattendo tanto per togliere la cadenza siciliana Franz fatti un corso di edizione se hai la possibilità certo in questi tempi solo online mi sa però un corso di edizione o sì anche quelli online ce ne sono anche buoni se cerchi edizione online qualcuno che fa video di edizione online c'è è anche preparato e poi se no ti compri un libro registrati e ti ascolti se vuoi togliere la cadenza e quello è un'ottima cosa se sei se la studi tanto anche in breve tempo ottieni dei risultati fidati impegno ma poi io posso posso rendere grazie un attimo all'opera di ingegno che ho alle spalle che non ho potuto far vedere perché ci sono seduta davanti no cioè aspetta io non vedo niente ah sì 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 certo falla vedere no no che mi sono bloccato un attimo il vedi io sono seduta sul trono di luci il trono di luci eh io vedi in ritardo ecco perché adesso si vede non lo so perché adesso sono la live in ritardo si vede si vede a noi dovete sapere che Valentina e anche io siamo dei sostenitori delle lucine infatti ho messo delle lucine anche in questa cabina qua adesso vi faccio vedere così guardate ho tutti i colori guardate che belle games of led sì la sua sembra proprio il trono di luci la sedia di Valentina abbiamo dei seri problemi con le lucine con le lucine tra l'altro c'è anche la modalità quella che ti fa tutte mi fa venire come si dice le crisi dei crisi pilletti così ecco dj franz dice zelcor lady b vivo fra le stelle ho lucetti ho lucetti ovunque sì 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 lady cioè guarda guarda fra adesso si sta illuminando ma che meraviglia ecco magari io metto così qua il telefono così guardo perché la camera ce l'ho là mi dimentico guarda non sono non sono proprio bravo a fare lo youtuber guardo guardo dove cavolo mi capita vabbè ciao siamo siamo youtuber un po' come siamo esatto crescerò 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 esatto perché comunque credo che un po' ci accomuni il fatto che principalmente noi eravamo preparati a leggere non a farci vedere quindi io sinceramente non ho neanche mai pensato di avere l'attrezzatura per youtube infatti ho la webcam del pc cara grazia che ce l'abbia il pc se no manco quella eh figurati io non c'ho manco cioè io sto usando una webcam che sta dietro un vetro insomma un macello quindi almeno non sono attrezzato tra l'altro questa è la prima volta che io appaio live sul mio canale dopo due anni davvero? cioè non mi si vede nel mio canale finora sono stato solo una voce mi si è visto per la prima volta sul canale di Edo quando abbiamo fatto la live dal suo studio è vero e poi questa è la e poi questa è la prima volta che faccio una live e mi si vede in faccia ecco ecco nel tuo canale è vero è vero me l'hai detto anche le altre due volte che erano le prime live che facevo non avevo collegato è vero questa è la prima live che fai sul tuo canale sì non ti sento più Vale che ti è successo? no ci sono ci sono ah ci sei ci sei ok ci sono ci sono Franz sembra far parte di un'opera di Andy Warhol è un figo Andy Warhol vabbè cosa facciamo noi fra? ci accingiamo a chiudere la serata ed eventualmente vogliamo dire qualcosa indicativamente quando potrebbe essere se abbiamo idee abbiamo qualche pensiero a riguardo del terzo capitolo perché li abbiamo lasciati un po' così col boccone in bocca stiamo lasciando un po' il terzo capitolo eh oggi è venerdì quando è che lo vorreste voi? tipo domenica sera per te? che giorno è domenica sera? dopo domani dopo domani? a me va bene se no la settimana prossima se no la settimana prossima e ne facciamo così una settimana però per me va bene fare domenica sera facciamo che magari ci riaggiorniamo un attimo vi facciamo sapere comunque esatto tanto tramite social te sì papà io e te che siamo super social sì soprattutto uh domenica vi piace domenica vi sconfinfera la volta scorsa ti si vedeva comunque sì Max però non ero sul mio canale ero sul canale di Valentina però sì mi si vedeva strano comunque c'avevo lo schermo adesso ho sperimentato semplicemente spengo lo schermo così non fa riflesso però insomma mi si vede meglio e allora ci sono colorate come le opere di World sì Gabriele Lottica l'avevo capito la non che cioè non pensavo di sembrare un barattolo di fagioli insomma l'avevo intuito domenica sì dai dai domenica vediamo se riusciamo domenica se riusciamo allora domenica sera domenica 17 17 domenica sì eh sì 17 beh sempre meglio di venerdì 17 quindi insomma guarda ok va bene ragazzi io spero che vi siate vi siate anche divertiti vi siate fatte anche qualche risata oltre insomma a a rilassarvi un po' con questa lettura e e niente insomma io non ho nient'altro da dire oltre che un grazie dal profondo veramente perché non è non è scontato insomma che avere qualcuno che ti sta a sentire ecco vale stessa cosa grazie intanto per aver ospitato la live per l'opportunità di portare avanti queste letture che anche questo non è scontato comunque decidere di trovare il tempo per farlo e la volontà di farlo perché leggere il live non è una cosa che magari tutti amano fare o si sentono proprio agio nel fare quindi grazie grazie a a tutti voi che ci state ascoltando e che avete aspettato la seconda la seconda live che ci state sostenendo che ci avete guardato fatto compagnia fatto domande e ci vediamo allora penso domenica però veramente vi aggiorneremo dai nostri social e comunque vedrete la live pronta e caricata o sul mio o sul suo canale almeno credo con un giorno di anticipo così potete eventualmente essere aggiornati e mi raccomando però per farlo vi conviene attivare la campanellina dei veri canali perché così almeno vi arriva la notifica e siamo tutti tranquilli è vero se vi arriva la notifica visto che ultimamente youtube manda notifiche tipo con dieci giorni non fa niente grazie ancora grazie ancora buonanotte a tutti buonanotte a tutti allora devo andare a spegnere è finita ah no devi andare a spegnere là ecco devo staccare un attimino prossima volta mi porto l'ukulele e intrattengo mentre chiudiamo la live mi porto l'ukulele